Ma guardate se tante volte non ci riesco eh Sì Sì Abbiamo risposto appena alla domanda Stavamo risultati Da fuori dalla cucina Un applauso Siamo nei raffinieri No se devo un applauso forte Raga sentite Io ho ricominciato Ho ricominciato perchè non so se avevate sentito Ho dovuto stoppare Perchè ipotizziamo che c'era un ladro sul balcone Ho detto è luna di notte ormai Per quanto è passato non so se ve l'ho fatto sentire Ricominciamoci Datemela più buona perchè devo ricominciare per forza Perchè ormai tanto non ci ho capito niente Quindi Dopo l'arrivo del ladro misterioso Cominciamo Rifacciamo Stagara Cobagnagna Non mi sembra che stavamo andando male Però Insomma Non mi sembra che stavamo e non mi sembra che stavamo e non mi sembra che stavamo e fordare domande Allora Allora Grazie.